Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi faccio il video Cosa ne penso di Bolt Action, gioco della Warlord Games che io ringrazio di cuore per aver dato inizio a questa collaborazione a cui tengo veramente da morire al pari della Games Workshop e se vi ricordate vi avevo fatto un video anticipazione di tutta la roba che mi era arrivata appunto dalla Warlord Games e che oggi vi presento in un set base. Quello che vedete qui davanti sul tavolo non è il set base quello di Band of Brothers che comprende 24 paracadutisti e 12 uomini della Wehrmacht più ovviamente un mezzo blindato ma quello che vedete qui davanti sono due scatole aggiuntive per i granatieri tedeschi con un Puma e c'è anche uno Stug che non vi facciamo vedere perché comunque ci siamo un po' velocizzati per fare il video non l'abbiamo ancora montato e dall'altra parte paracadutisti americani a Airborne e un M4 Sherman che dobbiamo ancora finire di dipingere. Ragazzi già mia moglie è impazzita per dipingere tutti quanti queste cose per farci il video più abbiamo anche stampato uno scenario con la stampante 3D che sentite rispondo perché lavora sempre quindi comunque abbiamo avuto un po' da fare per farvi vedere appunto questo video su cui ci teniamo particolarmente tanto e ve l'ho detto senza mezzi termini al pari della GV ve ne parlo a breve dopo la sigla Bolt Action gioco di guerra in ambientazione seconda guerra mondiale è uno dei titoli di punte uno dei più famosi della Warlord Games questo gioco della Warlord Games come anche diversi altri sono stati creati da due persone se non erro correggetemi nel caso di Canerone però due persone che poi ovviamente con altri collaboratori che hanno lavorato anche nella stessa Games Workshop infatti anche a livello di regole ci si ritrovano un po' di regole dei Warhammer 40.000 in questo gioco per quanto Bolt Action offre un'esperienza molto velocizzata e secondo me senza mezzi termini insieme anche a Undaunted Normandy quello che vi ho già portato sul canale gioco di introduzione portato in Italia dalla Genus Games sono secondo me i Wargame di introduzione per tutti coloro che si vogliono un po' avvicinare a questo panorama appunto di giochi di miniature su piccola e larga scala perché alla fin fine Bolt Action è un gioco che parte con l'idea delle schermaglie ma niente vi vieta di fare battaglie fra veri eserciti o comunque battaglioni e Bolt Action come vi ho detto è la variante in seconda guerra mondiale ma hanno la variante anche in prima guerra mondiale guerra del Vietnam, guerra di Corea oppure anche guerre direttamente nei tempi classici antichi come al tempo di Roma ad esempio l'invasione della Britannia da parte dei Romani guerre napoleoniche, guerra di indipendenza americana oppure anche la guerra di secessione, la guerra civile quindi comunque c'è veramente roba per tutti e qui davanti vedete roba in scala, miniature in scala 28 mm perché andando a citare altri giochi tipo Flames of War quelle sono più piccole, sono in scala 15 mm di solito queste invece sono belle grandi e un 28 mm è la scala dei Wargame anche della Games Workshop sì, lì magari si va soprattutto in quelle nuove anche in 30-32 ma c'è poca differenza, infatti gli omini sono veramente grandi dettagliati per i dettagli e qui davanti come detto vedete, come vi ho detto all'inizio paracadutisti americani, granatieri tedeschi, un Puma come mezzo leggero per i tedeschi e un carro Sherman come carro medio invece per le forze alleate in questo caso qui paracadutisti americani vi spiego un po' come funziona il tutto ma prima di tutto unboxing, macchiarisco unboxing, vi faccio vedere da vicino queste cose perché ovviamente erano manuale e tutto quanto attaccato agli sprue quindi è già pronto qui davanti, è montato, vi faccio un po' vedere da vicino cosa c'è nella confezione che vi ho fatto vedere nel video precedente quando mi era arrivata tutta quanta la roba dalla Warlord Games ci sono, qui davanti intanto ho messo qualcosina in più nella scatola dell'esercito dei paracadutisti abbiamo tutta quanta la roba che vedete qui più mancano ancora delle miniature in ferro che ci sono dentro tipo il mortaio e altre cose che non abbiamo montato tanto comunque al fine del video per farvi vedere anche un po' come funziona il gioco non ci serviva più, tre mitralettrici da postazione MG lo vedete accanto bellino con lo scout, col binocolo e di qua tutti quanti i paracadutisti questa è un'aggiunta che abbiamo messo noi a parte lo Sherman come carro medio visto che nella scatola dei tedeschi dei granatieri c'erano un Puma o uno Stug abbiamo detto ok diamone una anche agli americani per quanto sono paracadutisti quindi forse che oltre le nemiche che ti mirano a colpire alle spalle o comunque ad accerchiarti abbiamo detto mettiamoci per provare un po' tutte le regole uno Sherman quindi diamo un carro armato anche agli alleati e granatieri tedeschi che sono questi qua giù e in più come carri hanno come vi ho detto uno Stug che quello lo stiamo finendo di colorare e tutto quanto e un Puma come mezzo leggero quindi questi qui sono due set non di partenza di Band of Brothers ma acquistabili separatamente appunto come unità o eserciti o plotoni a parte quindi questa è la scatola di granatieri è quella attaccata che avete visto nei tedeschi e poi nel set di base di Band of Brothers che vi farò vedere successivamente c'è il regolamento di Bolt Action seconda edizione lo potete comprare in tutte le lingue ovviamente c'è anche la lingua italiana gioco della Warlord Games e Osprey Games e all'interno ci sono tutte quante le regole ma non soltanto che uno vede un manuale del genere immenso così e dice madonna ma quanta roba c'è qui dentro c'è da leggere tantissimo e invece le regole sono pochissime veramente hanno fatto il gioco più veloce del mondo basta una lettura anzi mezza perché arriva da Warhammer come me come tanti di voi che ci seguono e poi ci fa ovviamente tutto il panorama storico con le più famose battaglie in tutte quante le date che vanno dal early al late war quindi dall'inizio alla fine della guerra e poi è pieno zeppo di raffigurazione dello spray che sono veramente bellissime questo è il contenuto dei due set aggiuntivi che ci sono stati forniti ora vi faccio vedere un po' come funziona al solito non vi faccio un tutorial però vi do un pochino un'idea di come funziona così appunto da rendervi conto che è veramente il gioco di miniature il wargame secondo me più facile sulla faccia della terra allora abbiamo stampato uno scenario che è la classica abitazione a due o tre piani della Normandia quindi comunque il panorama che andiamo a rappresentare con le miniature che ci hanno mandato del late war quindi operazione overlord e abbiamo questo edificio che non è ancora finito ma l'abbiamo stampato noi in 3d e l'ha dipinto mia moglie appunto per farvelo vedere nel video e poi ne abbiamo stampato un altro un po' più piccolino che ovviamente c'è ancora da darci il prime e da colorare e tutto quanto ma stiamo stampando un pochino di roba perché appunto vogliamo fare diversi gameplay su un gioco che a noi piace da morire poi come ho sempre detto io mangio pane seconda guerra mondiale quindi per me questa è roba che vale oro se non platino quando andate a comporre un team le regole di base dicono che ci dovranno essere almeno 4 o 5 membri all'interno uno è sempre il capitano della squadra che ce ne metto uno giusto per rappresentarlo e poi magari andate a metterci il resto dei soldati squadra che può essere ampliata ma le regole cambiano magari i paracadutisti non hanno le stesse regole della Wehrmacht potrebbero essere una squadra da 5 massimo 7 un'altra squadra potrebbe arrivare anche a 10-12 membri comunque di solito una squadra è fatta almeno da 4-5 persone che poi come vedete qui davanti andate a fare la lista guardate quanto costa e li cambiate l'equipaggiamento perché magari qualcuno al posto di volere un fuciliere potrebbe sostituire il fuciliere come durante le liste ad esempio di Warhammer 40.000 e metterci uno con un Thompson ad esempio stessa cosa nella controparte dei tedeschi qualcuno potrebbe sostituire un fuciliere come questo qui per metterci ad esempio un fucile d'assalto oppure perché no nella stessa squadra metterci un MG quindi una mitragliatrice leggera quindi da trasporto quelle più pesanti se vi ricordate hanno sempre bisogno del treppiede per essere messe per terra e hanno bisogno anche di un Recon accanto regola del gioco vuole che quando l'unità verrà bersagliata e il Recon verrà ucciso avrà un meno uno a sparare perché ovviamente non c'è più quello col binocolo accanto che ti dà l'indicazione su dove sparare stessa cosa potrebbe essere per uno sniper stessa cosa potrebbe essere per un mortaio o per un obice se non c'è più l'inserviente che ti dà la direzione su dove sparare potresti avere un malus le regole poi fondamentalmente come vi ho detto sono quelle del wargame classico quindi quando si va a fare fuoco si va sempre a misurare la distanza fra l'omino più vicino della truppa e quello più vicino dall'altra parte quindi le distanze si misurano sempre non dovete misurare uno per uno tutti quanti basta che quello più avanti o comunque il capitano o quello che è vada a toccare l'altro della squadra tanto regola vuole che ci si muove come unità non come elementi singoli quindi non potete mai mettere a più di uno di distanza di pollici una miniatura dall'altra quindi comunque la squadra è sempre un'unità poi la potete disporre come vi pare però non possono mai essere a più di uno di distanza quindi volendo li potete mettere anche tutti incollati si va a calcolare la distanza se abbiamo la distanza si va a vedere se tutti possono tirare a distanza ci siamo basta misurarne uno però a volte le armi hanno gittata differente un fucile magari ha una gittata differente di un SMG un bazooka rispetto a un MG da postazione quindi comunque bisogna andare a misurare le distanze perché magari ci arrivano però uno dei fucili potrebbe non arrivarci per un pollice e questa cosa non ti fa sparare o magari una truppa potrebbe essere coperta magari da un mezzo quindi sì si può tirare sull'unità ma non su tutti questi tre non li si può tirare addosso se sono coperti da un cararmato ma si dovrà tirare soltanto su quelli scoperti quindi comunque sì si può tirare ma la copertura è una cosa importante come soprattutto la copertura da un edificio stessa cosa si può tirare verso l'alto su un edificio a questo sergente qua su in cima però si beccherà un malus per la copertura e i malus per la copertura sono copertura semplice o copertura avanzata tipo vabbè parziale e completa la copertura parziale è quella se ovviamente ti copre poco tipo le gambe fino al ginocchio per farvi capire una copertura completa è dalla cintola in su quindi questa con un muretto bello resistente di una casa e mattoni in muratura è una copertura invece pesante quando ci si spara fra truppe il tiro è sempre 3 o più di base tutti quanti sparano col 3 o più a parte le truppe inesperte perché potete risparmiare punti invece di mettere truppe regolari metterle inesperte ma sparano peggio ovviamente hanno un malus di meno 1 a colpire comunque di solito col 3 o più si colpisce sempre meno 1 per la cittata se siete agitata massima quindi se un'arma tira a 20 entro 10 non ha problemi da 11 a 20 invece a massima cittata hanno il meno 1 quindi anche quello è il caso di meno 1 per le coperture come vi ho detto per il terreno accidentato o se una truppa si muove ovviamente muoversi e sparare da un malus ulteriore perché non si è stato fermo quando si va a sparare su truppe come vi ho detto la regola del tiro con tutti i malus poi bisogna andare a ferire le armi feriscano sempre al 4 o più su truppe comunque inesperte e regolari mentre invece vi servirà un tiro sul dado da 6 di 5 o più per ferire truppe veterane perché praticamente le truppe veterane sono più esperte e più difficile proprio andarla a ferire e andarla a colpire ogni volta che una truppa spara sull'ata si va a fare il conteggio delle armi magari un fucile d'assalto tira due dadi un MGI ne tira tre un fucile ne tira uno si vanno a prendere tutti i dadi che bisogna tirare si fa il classico tiro e si vanno a togliere i colpi che non sono andati a segno quando ci si spara fra truppe non si può scegliere il bersaglio quindi se questa truppa spara a questa almeno che non abbia uno sniper non può scegliere il bersaglio quindi quanti te ne ho uccisi quanti ne ho colpiti i feriti tre è il giocatore che usa l'americano il vostro avversario che deve scegliere quali togliere se invece un qualsiasi di questi tiri fa un 6 sul dado per colpire si può ritirare se un'altra volta quel 6 riesce un 6 un'altra volta allora il giocatore da questa porta è che può decidere che uccidere e magari potrebbe dire sì sì io intanto ti levo l'MGI oppure il sergente quindi ti levo potenza di fuoco quindi le regole come vedete sono veramente facilissime quando una truppa spara un'altra e colpisce anche se non fa nemmeno una ferita l'unità si prende un segnalino di pin come vedete anche se entrano 500 colpi non è un problema soltanto un segnalino di pin ovvio se 4 squadre ti tirano addosso prendi un pin per squadra che ti ha colpito il segnalino pin quando una squadra viene colpita gli da un meno 1 sul tiro per colpire quindi quando questa unità con un pin dovesse fare fuoco su quest'altra o su qualsiasi altra che sarebbe praticamente il fuoco di soppressione questa unità avrà meno 1 a colpire stessa cosa nel caso di una carica in corpo a corpo avrebbe meno 1 all'assalto e tutto quanto perché sono sotto il fuoco nemico ovviamente non stanno in mezzo alla strada ma cercano di ripararsi quindi il pin vale anche per unità ad esempio dentro un edificio se un'unità è dentro un edificio ovviamente anche in quel caso un'unità colpita prenderà un segnalino pin all'inizio del turno che è una delle regole che mi piacciono veramente di più di bolt action si va a fare un sacchettino e ci si mettano tanti dadi quanto l'unità che abbiamo non i soldati contro l'unità mettiamo in questo caso sono due unità nel sacchetto ci vanno due dadi all'inizio del turno si va a pescare chiunque lo può fare casualmente dal sacchetto si tira fuori un dado e il dado se è verde è degli americani e se è grigio invece è per i tedeschi le forze dell'asse quando si tira fuori il dado si decide che ordine dare a un'unità e gli ordini sono direttamente scritti sul dado li si può dare a terra correre quindi spostarsi più velocemente ma ovviamente non si può sparare avanzare quindi l'avanzata che non è la carica non è la corsa fire il fuoco quindi per sparare imboscata che è un dado che rimane fermo e non viene ripescato al turno successivo vuol dire che mette l'unità in ready e l'unità potrà sparare anche nel turno di un avversario o anche in un turno successivo sono lì che aspettano un momento buono per sparare e rally richiamare l'unità al dovere perché quando non avete segnalini pin quindi l'unità non è scossa prenderà direttamente il vostro ordine ma se avete uno o più segnalini pin quindi fuoco di soppressione addosso l'unità per risolvere l'ordine dovrà fare un test di disciplina con quello più alto quindi al comando in questo caso il sergente e se riuscirà nel tiro di disciplina verranno tolti tolt pin con appunto l'azione rally ma se non dovessero togliere questo qui fare un'azione rally e magari fa un test di disciplina con meno uno per ogni segnalino pin che hanno addosso potrebbero fallire test di disciplina e se lo falliscono non fanno l'azione quindi l'azione che gli era stata ordinata che ne so sparate e fate fuoco non sono riusciti a farla non possono fare niente e restano completamente bloccati se un'unità è sotto il fuoco nemico può scegliere di fare come unica azione se non ne ha già fatte altre qui davanti se il suo dado non è ancora stato pescato può decidere di fare down quindi buttarsi a terra nel turno successivo non fare azioni perché si sono stesi a terra per non prendere il fuoco del nemico ma avranno meno due a essere colpiti quindi nel caso se buttassero a terra e in più fossero dietro una copertura pesante avrebbero meno due meno due meno quattro quindi sarebbe impossibile colpirli però non fanno niente non sparano niente e bene o male le regole di bolt action quelle di base poi ovviamente c'è qualcosa di avanzato sono tutte qua la cosa che conta assolutamente di più che vi faccio vedere sono gli edifici perché danno copertura e quindi un edificio ti dà copertura è normale rispetto che essere al centro nel campo aperto e poi i veicoli i mezzi sono una cosa particolare allora questo non è flames of war faccio questo piccolo chiarimento i mezzi non sono la cosa più importante di bolt action e infatti anche nelle scatole ce ne è poche e se ne vedono pochi sul campo perché bolt action è un gioco al 99% di fanteria per schermaglie non sono battaglie fra eserciti dimenticatevi di visione panzer africa corps o cose del genere lo potete fare ma non è pensato per questo questo è per un gioco veloce di schermaglie ma comunque ci sono ed è bene perché anche ci hanno una qualità disumana qui vedete un puma che è un carro leggero senza scingolato con le ruote dei tedeschi e da quest'altra parte uno schermann degli americani come carro medio i carri ovviamente come su mi verrebbe in mente world of tanks ma anche world thunder hanno giustamente il fronte i lati e poi hanno anche il retro ad esempio un carro armato sarà sempre più protetto sul fronte magari leggermente meno protetto sui fianchi e più debole sul retro per non parlare poi dei colpi di mortaio o di obice che ti potrebbero colpire anche con he quindi non a livello di penetrazione delle corazze della corazzatura della blindatura ma sul tettino e fanno danni disumani anche a un tiger perché è normale la parte alta dove c'è la botola per entrare è la parte più leggera di qualsiasi carro sulla faccia della terra comunque è buona tattica anche prenderli dall'alto nel caso siano troppo pesanti regole dei carri sono le stesse identiche della fanteria con la differenza che come vedete le torrette girano si muovono e la torretta deve sempre essere girata verso il punto verso il nemico che state puntando perché nel caso se io andassi a sparare a un puma messo così giustamente lo potrei prendere soltanto sul fronte se quel puma nel turno precedente mi ha sparato con delle he e sulla fanteria e lo becco dalle spalle il colpo che andrò a sparare sarà preso alle spalle quindi gli farò molto più danno i mezzi hanno valore di penetrazione che va valore armatura che vanno dal 7 al 10 7 per un mezzo leggero 10 per un mezzo pesantissimo come potrebbe 10 e 11 come potrebbe essere un carro super pesante un tiger un tiger 2 e carri un pershing e carri veramente grossi del genere di solito un carro medio dovrebbe avere un valore di armatura di 8 9 massimo questo cosa vuol dire che quando si va a fare un tiro per colpire ad esempio con un un'arma ad assalto questo va a tirare contro questo ma il massimo che lui può tirare sul dado è 6 quindi non può arrivare a fare un valore di penetrazione superiore al 6 però ci sono armi tipo le mitragliatrici un pochino più pesanti da postazione che danno più 1 alla penetrazione quindi questo tirando un 6 massimo che può fare più 1 7 potrebbe addirittura provare a ferire un mezzo blindato leggero ovviamente non un puma è una cosa del genere un carro per poterlo riuscire a ferire un carro come questo qui che potrebbe avere resistenza 8 o 9 ti serve un'arma che almeno ti dia un più 2 o un più 3 perché se tiro un 6 con un più 3 ho fatto 9 sono riuscito a bucarlo quindi un bazooka un panzer shrek un mortaio e cose del genere sarebbe banale che un fucile o un unità d'assalto normale o un car 98 ti buchino la blindatura di un carro cioè disinstallo veramente e sono cose che non succedono i carri quando vengono colpiti devono fare un tiro per vedere se l'equipaggio è scosso se esplosa la stiva delle munizioni se si sono rotti i cingoli se è rimasto immobilizzato se esplode se esplode magari ti fa danni alle truppe accanto insomma il regolamento è veramente facilissimo e si spiega molto facilmente io quello che vi ho fatto vedere ragazzi è un'idea un'infarinatura soltanto con l'idea principale poi ovvio se volete nel manuale ci sono anche le regole avanzate in conclusione questo bolt action della warlord games è onestamente il gioco di guerra il wargame in seconda guerra mondiale che aspettavo veramente da una vita perché non soltanto le regole sono ma no semplici c'è a volte anche troppo e ti ci piglia una voglia di giocarci disumana perché anche se e lo fa tutti abbiamo tanti regolamenti in testa per i tanti giochi che facciamo questo ci rimane che è una bellezza non c'è mai nemmeno bisogna andare legge com'era quella regola com'era perché è veramente facile poi se lo volete un pochino più appesantire non tanto complicare ci sono anche regole avanzate ma già con quelle base potete fare tutto e poi la scala è bella grande perché non si va a vedere una cosina piccina scala epic si vanno a vedere carri insomma di belle dimensioni belli anche da dipingere tra l'altro questo Sherman ci sto per fare un video di pittura questo qui l'ho pitturato io come vedrete in un video successivo non vi dico niente non vi voglio rovinare la bellissima sorpresa mi è venuta anche troppo bene come prima pittura della mia vita prima quindi anche troppo e questi qui sono i set base che vi ho detto all'inizio più edifici come questo qui che ad esempio si può smontare perché ci potete anche giocare all'interno ci potete mettere le miniature uno potrebbe dire guarda a me interessa fare un edificio a tre piani magari lo stesso edificio a tre piani lo faccio faccio diventare due edificio a un piano e poi un altro edificio un pochino più piccolino che tanto anche questo qui è in scala e dobbiamo sempre andare a finire di dipingere se volete questi elementi scenici non li stiamo stampando per lavoro stampati in FDM in plastica stampati e mandati a casa oppure stampati primerati oppure stampati primerati e dipinti quindi come lo volete voi si fanno tutte le forme se volete ordinare anche questo qui già dipinto magari ma non soltanto per Bolt Action li facciamo anche per Warhammer Age of Sigmar li facciamo per Warhammer 40.000 sono tutte cose che noi per lavoro abbiamo aperto lo shop che vi lascio come link in descrizione per appunto se volete ordinare pezzi del genere ve li facciamo li dipingiamo anche tutto quanto e ve li spendiamo a casa nel giro di pochissimo tempo io ringrazio la Warlord Games per avermi dato la possibilità di collaborare con loro e ve lo dico dal profondo del cuore è un onore disumano perché ce ne sono tanti giochi di guerra ce ne sono tanti Wargaming seconda guerra mondiale ma questo è quello che mi piace di più perché le miniature sono grandi vabbè il paracadutista col macete siamo boni bellissimo questo carica corpo a corpo è pazzo e non vedo l'ora di provare anche le miniature della guerra nel pacifico con l'esercito imperiale nipponico da una parte e di là i marines non vedo veramente l'ora di provare una cosa del genere e ragazzi è stupendo se cercate un gioco di miniature stupende al giusto prezzo con roba grossa di 28 mm e un regolamento che è una bagianata vi giuro meglio di questo ma vi sfido anche a scrivere nei commenti meglio di questo per me non lo trovate a livello di semplicità ma anche di immersione se lo volete acquistare primo link in descrizione in sovraimpressione dalla gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato che è diventato rivenditore ufficiale della Warlord Games dunque tutti questi prodotti li trovate nella gioco libreria semola al nostro negozio sponsor e se tutto quello che ordinate andate sul sito è finito quindi vedete la scritta rossa finito in restock o magari proprio non c'è cercate un oggetto che in lista non c'è scrivete sempre al supporto accorrade al proprietario e ditegli arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere questo oggetto che l'hai finito o comunque non c'è si può trovare lui farà il possibile per trovarlo al miglior prezzo sul mercato e per tutto quello che acquistate anche per la roba della Warlord Games usate sempre il codice sconto Coridan 7 per avere uno sconto del 7% quindi usatelo perché anche su questa roba ho il mio codice sconto io ringrazio ancora una volta la Warlord Games ragazzi è uno spettacolo disumano e fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima